salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di borderland enchanted edition bene andiamo pure avanti dove eravamo rimasti e doveva fare gli altri le altre parti vediamo se mi ha dato accesso al soffitto al tetto soffitto soffitto ecco sì infatti mi ha dato accesso allora mi ricordo vagamente nell'altra try che abbiamo fatto sul canale che in un soffitto anche ecco qua ok c'è sempre spazio per un altro bottino 79 per 9 700 più o meno è poco però sei proiettili e 45 di precisione e non sarebbe male il mio 70 di precisione quindi è molto di più di 45 adesso la prendo poi ci penso dai purtroppo dovrei trovare qualcosa di almeno uguale non dico superiore perché dopo sarebbe anche difficile però uguale non mi dispiacerebbe ok andiamo pure nell'altra zona non poco la cia lì questo scudo era svolta perché ha la rigenerazione lenta non molto lenta quindi anche la lo scudo diventa di conseguenza così allora dovevo andare giù qua potete vedere che c'è raid però non siccome la zona che non ho ancora esplorato la vorrei un po vedere perché se mi perdo qualcosa dopo mi dispiace vediamo un po ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo si potete passare sia di là che di qua andiamo di qua dai così vedo anche un po come c'è a ovest salvataggio ovest cosa c'è ci dovremmo andare sicuramente oh salve bersaglio colpito ma mia incredibile non mi dico che sono già pieno anche oh oh rilassate via un attimo ecco qua non fa dei salti ecco qua il medico ecco il medico e uccidimi così almeno mi rigenerò ok no no andrà via non andrà via non ci può andare via ok perfetto vero ok perfetto piene munizioni e andiamo pure c'è niente vero qua non vuole trovarmi perdermi la cassa qui si sta rigenerando che la meraviglia ok chi è chi è chi è chi è chi è chi è perché ho l'aventato allora no l'ho ucciso mentre vabbè ma dove farcela piano con calma prendiamo la eccolo qua questo bastardo ok altri un attimo eh mi rigenerò un secondo quando la consiglia è una figata sto cosa ok e lui dice che per me di sopra sono di sopra sì sì sono di sopra dai allora ecco infatti questo volevo vedere vai entra ok non è tanto è però non voglio che mi si sparano quando esco roba del genere e questo potrebbe succedere non si apre devo passare di là ho capito allora arrivo arrivo eh devo passare dal tetto direttamente ho già capito dai non mi fermare così ok 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 vai 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 oh mamma mia tremendi eh tremendi veramente siamo meno male che vedete che se mi sparava lì ero fottuto ero veramente fottuto oh cazzo mi hai fatto caccare in mano non devi fare fasti colpi ah sai che fa male eh sì è un pochino allora questa non è niente questa non è niente sì ovviamente era eh però non le uso mai quindi sì non usandole mai non interessa neanche cioè le bombe alla fine non le uso mai nei giochi di guerra gli spara tutti insomma non mi sembrano tanto utili a meno che nel gioco non le proprio le chieda allora voglio aprire sta cavolo di porta non me la fai aprire va bene forse devo prima fare sbloccare il congegno ah sì per forza no non è per forza però è molto probabile perché io comunque posso uscire dal tetto eh quindi vai e due non c'è niente qui è solo soldi allora adesso che l'ho attivato giusto per curiosità voglio vedere se mi è sbloccato di sotto sì mi è sbloccato ok e adesso c'è un po' di roba e la prenderei molto volentieri eh sì eh intanto apriamo questa e apriamo queste è sempre bello venire riforniti eh lo so parecchio generazione munizioni squadra dimensioni caricatore oddio che è successo perché mi hai suonato questo non è niente non è che me l'hai equipaggiato per sbaglio vero no perché mi è ancora locato dimensioni caricatore dimensioni caricatore perché non riesco a trovarli con dimensioni caricatore se no sarebbe due cattoli emessi mod eccole con dimensioni caricatore non lo trovo mai è questo in teoria però squadra armi dimensioni caricatore questa è arma questo non capisco la differenza squadra dimensioni caricatore non capisco la differenza è un 24 comunque è troppo basso per riuscire a capire se effettivamente funziona o meno va bene andiamo pure apriamo grazie molto gentilo ok possiamo andare di qua mamma mia che versi benissimo dai alla fine la facciamo molto bene questa missione dobbiamo fare un po' di giri eh però si purtroppo lo che c'è rider non ce l'ho lì vabbè alla fine si ha due passi dai non perdiamo speranza di arrivarci insomma ci arriviamo subito le munizioni adesso che intanto devo fare due passi diciamoci la switcho un attimo tanto al fine prendo su un proiettile lui intanto mi rigenera le munizioni tutte le munizioni meredizione mamma mia che violenza inalata dove sei? non vi vedo eccoli qua oh l'ho preso però certe volte è strano oh cazzo mi sono scordato oh ok andiamo pure dove sei? oh cazzo ma chi è questo? chi è questo? ma dove cazzo vai? non capisco cioè non capisco non capisco va vabbè amen allora adesso dove sei? chi mi sta sparando? ragazzi non capisco sento rumore ma non vedo effettivamente niente ok mi ha salvato adesso vediamo di riuscire ad arrivarci secondo me quelli sono allora ok oh cazzo mi sta sparando vabbè che stanno pensandoci loro eh per carità ok dai speriamo così ok oh togliti togliti ok porca porca manca eh adesso ci penso io ci penso me se no me lo uccide lui oh ma qua cazzo l'elite è andata male pensavo fosse uno normale oh ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta non l'hai preso via 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 per questi per uccidere un casino eh sarà dura eh adesso ci si mette anche la mitra oh cavolo eh sarà dura ragazzi eh sarà piuttosto dura eh non ce la faccio perché mi mi sparano destra e manica eh purtroppo ok ok data corriamo 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 vai via oh mamma mia ok io sono potento stesso insomma tu sei un elito o sei uno stronzo no perché bisogna capire le cose ecco qua ecco qua ed ecco qua ed ecco qua guardate che bello cioè figata sì eh mi rigenererei un attimo intanto mi ricarico anche cioè è troppo bello rigenerazione scudo vita e proiettili cioè siamo diventati cararmati dai c'è poco da dire ok tanto te spari lì e io sparo te oh finalmente oh cazzo sì ma te sei troppo forte devo assolutamente fare qualcosa contro quelli perché mi faranno un culo esagerato vediamo un po' cosa c'è qui ok ah è vero che sono pieno e non ho da vendere accidenti è brutta la cosa può essere che è un mangatino che è di tutto rispetto però nonostante tutto è un casino e siamo tre adesso dovrei farla la mia tipa credo eh no mi sono sbagliato eh vabbè pazienza io poi vi darò anche a parlare perché ho riattivato le comunicazioni eh sì eh no la miseria ha fatto un salto da panico ah giusto non posso recuperare niente bene qui abbiamo delle armi sì saranno del cazzo come al solito cecchino e mitra che non me ne uso allora il problema di base è ammazzare quei cazzo di cosi perché non hanno un cazzo di vita vanno solo lo scudo di buono cos'ho che può rompere lo scudo niente eh che ho alloccato invece che rompe lo scudo questo no esplosioni questo no è soltanto forte non ho niente che rompe lo scudo eh sarà dura vabbè proviamoci lo stesso intanto mi sono rigenerato ho scusato sbetto strada come al solito mi perdo e niente andiamo pure speriamo bene la vedo male perché hanno un raggio d'azione che è proprio da cecchino e io devo fare in fretta non sarà facile non sarà veramente facile ecco vedete ah loro hanno bisogno di un minimo ai 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 ma guarda quanto mi hanno tolto hanno bisogno di un minimo per caricarsi ok eh non posso prendere più questi mamma mia che paura ok ce la sto facendo cerco di andare un po' zig zag così almeno non mi prendono ok dai 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 mamma mia potentissimi perfetto dai ce l'abbiamo fatta meno male che ho la rigenerazione evidente dai ce la facciamo alla fine dai non è stata dura mi sono spaventato del dovuto eh questo però lo voglio prendere ok più grosso e più cattivo mi fa piacere sono livellato questa è una cosa che fa molto piacere e qui abbiamo finito dopo c'è questo che è rigenerazione energia secondo uccide un nemico ah si 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 aumentiamo più che possiamo la rigenerazione perché ci servirà col boss finale anche se quello al fine è rigenerato ogni volta prima ammazziamo qualcuno però dai non importa allora si ok ok questa vi ho detto questa e queste qui tutte quante via questa era quella di prima e queste qui sono tutte le mie ok perfetto dai ce l'abbiamo fatta sto facendo chi è ma chi è guarda dove è uscito scusate sono curioso ma si sono rifatti ma vaffanculo si sono rifatti tutti va bene non mi importa adesso andiamo dove che vada esattamente a consegnare la quest non c'è perché probabilmente sarà lì ci riguardo però mi sembra che non ci sia no c'è no qui è esattamente dove sono fino in giro ah di devo andare qui allora vabbè posto andiamo qua si perché secondo me devo andare da Tannis così a naso sarà un dito nel culo intanto qua prendiamo ciao è stato un piacere mamma mia che cativeria intanto loro si sono aperti tranquillamente io oddio scusate ho fatto il pulsante intanto io qui mi preparo perché qui sono rifatti tutti sto ballando sto facendo come il trap sto facendo come il clap trap che c'è in buca bravo complimenti oh cavolo stiamo diventando delle bestie ragazzi oh ma qui c'è ancora cioè gli item sono rimasti e i mob si sono rifatti va bene mi sembra giusto no allora esattamente devo andare qui oh ma salve si si lo sto prendendo vedi come lo apre il fuoco numero dei cadaveri in aumento eh si mi sta aumentando beh non si sono proprio rifatti tutti però ok mi dispiace di non essere affidata di te ma non è questo il momento delle scuse la stella ha preso la chiave ed è già partita alla volta della cripta ehi vai fuori quella puttana per me ah certo lo farò volentieri ma perché le donne quando si odiano si chiamano sempre puttana altre di loro non capisco ok e questo riattiva le comunicazioni io sono un po' interdetto perché mi ricordavo che vi parlasse la tipa ok andiamo pure si si arrivo lì non ti preoccupare tac mamma mia che puttana inalata chi c'è qui chi chi c'è c'è uno qua si ti faccio vedere come lo apro io eh tra poco ecco lo apro così guarda sei un culo della miseria si carica questo visto non so come tu abbia fatto ma ora vedo di nuovo tutto oddio questa volta mi hai sorpresa ascolta non c'è tempo da perdere devi raggiungere immediatamente la cripta vai ora io ci provo ma non sono ancora pronto per il boss spero di trovare qualche arma adeguata ma la vedo dura intanto dai ce la faccio anche con questa moto qui ok ok questa è andata questa è andata questa è andata è andata ok mamma mia ragazzi comincia ad essere divertente sicuro ma anche un po' troppo frenetico dove devo andare? a fare un giro estruso però abbiamo il catch a ride ragazzi abbiamo il catch a ride quindi dirigiamoci qui e andiamo a prenderlo si non mi sparare così ho cattivo centro centro perfetto oh fantastico ok andiamo pure carichiamo non siamo già carichi chi è in buca? lo salve che sarai da lì là quindi mi tocca andarmi una mossa allora questo con lo scudo ha rotto i varoni ok si si ah l'ho ucciso ok adesso l'ho ucciso ok perfettico mamma mia cavoli qui c'è il catch a ride prendiamolo generiamo e vai mi occupo io del veicolo bene mi fa piacere meno che ho detto mezzo perché con lui c'è da aspettarsi qualsiasi cosa di qua ah beh è stato intenso e divertente ok ci andiamo con il catch a ride eh speriamo bene ragazzi la rete ecco è stata ripristinata sì credo di dover ringraziare te per questo eh già qualsiasi cosa ti serva ricorda di usare la rete commerciale sì sono sicuro che ci troverai qualcosa di utile socio per adesso non ho trovato un cazzo di niente ce l'ho già qui grazie stavo dicendo non ho trovato un cazzo di niente lui non mi regalava niente poteva regalarmi qualcosa non so uno sconto armi più rare magazzino più intenso non lo so allora ehm qui c'è un altro punto di rilascio non c'è molto tempo devi raggiungere la cripta a qualunque costo rilassati non avremo un'altra possibilità in questa vita ehm rilassati ma mi metto un'ansia sta ragazzo non si è fatta sentire per un po' adesso mi metto un'ansia incredibile ehm e questa è la strada vero no? che sto sbagliando di nuovo no? sto sbagliando ok aspettiamo che si rigeneri eh siamo a due passi dalla cripta eh non penso di riuscire ad essere in grado di abbattere il boss così con quest'arma però ci posso provare insomma ma ma mancava ancora un livello però la cripta mi sembrava perché non era proprio qua forse è nella scena che dobbiamo andare adesso mi ricordo più fasi comunque sì dovremmo fare forse un altro livello prima di arrivare la cripta eh la cosa non sarebbe male mi piacerebbe proprio no tac bersaglio colpito ok non avevo le punizioni nemmeno tac eccoci qua tac tac e vai altri tac tac ok ha fatto un bel salto io sono preoccupato perché qui di armi ne troviamo tante e di spazio io ne continuo a essere sempre poco allora devo andare di qua ok beh non manca molto però il problema è che c'è tanta gente e la spazio è molto vasto e io ho un fucile da pompa ricordiamoci questo non è che c'è un fucile da secchino o una pistola per di precisione oh ho sempre un fucile da pompa ma bastardo di un elite stronzo ok eh infatti l'ho detto anch'io eh eh insomma siete troppi eh ragazzi ok colpo critico ecco qua oh mamma mia ma erano tanti ragazzi quanti erano ok ce l'ho fatta beh io sono abbastanza contento sono riuscito a far tutto eh meno male che questo scudo è una figata senza fine eh finalmente abbiamo trovato qualcosa di decente perché se no era un po' difficile dobbiamo andare lì? io vado scusate perché non ci chiedo che un posto del genere ecco infatti non abbia niente perché mi sembrava strano volendo c'è anche qualcosa lì secondo me così a naso magari mi sbaglio eh solo munizioni che non mi servono tra l'altro perché ho la moda che mi di genere adesso sì vado velocemente a vedere qua e poi andiamo subito alla vediamo un po' non c'è nulla 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 niente cosmico ok andiamo pure oh dai sono abbastanza contento ce l'abbiamo affascionata eccoci qua e adesso c'è l'altra zona che dovrebbe condurre la cripta però ancora un po' ci vuole secondo me un livello lo facciamo ecco salvato perfettico vai così oh io spero di trovare la moda leggendaria non l'ho ancora trovata la moda leggendaria il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto io lo ammazzo devi raggiungere la cripta a qualsiasi costo non avremo un'altra possibilità in questa vita è la seconda volta che me lo dici oh mamma sono tutti morti salve allora io loro è tutto scudo per il resto non c'hanno niente una volta ha fatto fuori lo scudo eh purtroppo una volta ha fatto fuori lo scudo dicevo sono delle cacche esatto madonna quanto mi dai tanto o salve ok io non ho problemi eh lo so adesso il più problema tagli fuori il pappo allo scudo che ne ha tanto veramente ok vai oh come vedete ah sì ho fatto tutto da solo è di oh cacciatore vediamo un po' adesso ci salutiamo ragazzi così facciamo tutto quanto con calma io non voglio avere fretta perché sto gioco va goduto io non sono da rush quindi sì ok niente mi scordo che le monzioni adesso abbiamo la mod che rigenera l'abitudine scusate e vediamo un po' cos'è un cazzo combat rainfall ah sono già pieno che bello va bene ragazzi dai io direi che ci possiamo soltare qui per questo video è tutto io vi invito come sempre a lasciare un like un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate per adesso vi do un saluto ciao ciao